È successo di nuovo Continuano a minacciarmi di morte a me e alla mia famiglia A insultarmi, a stalkerarmi Sono stato diffamato ancora Che in realtà non è successo solo a me questo Ma anche ai Pantellas, al mio ragazzo, a Genichi Sosa, a Fabrizio Valerio e non so chi altro Cioè scherzo Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo video un po' parlato, un po' tg-talk Adesso vedrò anche come chiamarlo questo video Perché è successo di nuovo Questa cosa deve finire, questo sarà il titolo del video credo in realtà O non lo so, o non ho fatto del male a nessuno Questo potrebbe essere l'altro titolo Adesso mentre parlo con voi mi vengono in mente delle idee Ma più che altro delle frasi per far capire Che tutto quello che viene raccontato sui social in questi ultimi giorni Questi commenti che arrivano non risvecchiano la realtà E oggi ancora una volta siamo qui Per parlare di commenti falsi Di bot che dicono cose assolutamente false Non soltanto su di me ma su tantissime persone che ci sono qua sui social E purtroppo sì, è successo di nuovo Sono stato nuovamente vittima di commenti falsi Infatti oggi torniamo a parlare di quello che mi è successo circa un mese fa Era l'inizio di agosto Quando vi raccontavo tramite un video che si chiama Sono stato diffamato Di tutti questi bot credo fossero sui 60-70 commenti che mi sono apparsi su Instagram Commenti aberranti, commenti che mi vedevano come una persona violenta Ero un pedofilo, uno stupratore Ero, insomma, tantissimi commenti che addirittura dicevano che c'era un video dove io molestavo delle ragazze C'erano anche dei commenti omofobi Quindi, insomma, voi capite che era un purpurri di commenti assolutamente falsi Che volevano attaccarmi in qualche modo, no? Ma, come dico sempre Male non fare, paura non avere Oggi che cosa succede? Sono qui per dirvi appunto che è successo di nuovo Questa volta i commenti non erano 70 Erano 120, 130 Ho perso il conto onestamente E che cosa succede? Succede che prima di raccontarvi nuovamente la mia esperienza Perché ci sono delle novità Dobbiamo fare un passo indietro Perché quello che è successo a me a inizio agosto Man mano in queste settimane È successo a tanti, tanti altri creator A tanti miei colleghi La stessa identica cosa è successa ai Pantellas Questo duo famosissimo di youtuber Ma è successo anche ad una delle mie prefe Ve ne ho parlato anche di recente in un TGTube Iris Babilonia Lei è stata inondata da tantissimi commenti Mi ha anche taggato su Instagram Perché era successa prima a me questa cosa Prima di lei E ha voluto ironizzare sull'argomento Ha pubblicato queste foto Dove scrive questo Io che aspetto vestita bene La squadra che ieri mi ha minacciata Di prendermi a botte e finirmi con una Molotov Perché il genere di commenti Oltre alle tantissime minacce Dicevano proprio questo Adesso sappiamo dove abiti Adesso avrei delle sorprese in casa Cioè capite ovviamente che Sono dei commenti molto forti Che noi sappiamo benissimo che sono falsi Ma un'altra persona Che magari non è così attenta Magari non sa Veramente quello che succede Può avere Veramente paura Cioè io ragazzi Sono in casa mia Non ho paura Che nessuno venga Perché so benissimo Che sono profili falsi Però chi ce lo dice Che dietro quei 100 commenti Uno non sia vero E sia veramente una minaccia Chi può dirlo? Può dirlo la polizia postale Ne parleremo più avanti In questo video Ma Iris non è l'unica Che ha ricevuto Questo genere di commenti Infatti A parlare Di questi Commenti falsi Sono anche tanti altri creator Che provengono anche Da TikTok Uno dei primi infatti È Gioele Arreghini In quei primi giorni Dopo quello che ho raccontato io Qua sui social Di questo genere Di commenti diffamatori Mi sono arrivati molti commenti Su TikTok Che mi taggavano sotto il video Che adesso andremo a vedere Proprio di Gioele In questo video Lui Un po' come me È stato Vittima Di queste Assurde Accuse Di stupro E di molto altro Guardiamo insieme Quello che è successo E cosa ha raccontato Gioele Guardate Qualcuno ci vuole male Ho postato questa foto con Thomas Perché abbiamo cominciato Un progetto insieme Un nuovo canale su YouTube E stanno succedendo cose strane Tipo stiamo ricevendo Questi commenti Che ovviamente sono falsi Sono tutti bot Ma ho voluto indagare un po' Quindi per fare chiarezza Sono bot Che non so Perché una persona Dovrebbe mandarceli Infatti adesso vorrei parlare Anche di questa cosa Ho letto un commento Di una ragazza Che era quasi Confusa Stava quasi credendo A quello che scrive Nei commenti Solo perché tante persone Lo stessero scrivendo E c'è tipo lei Che risponde a un'altra ragazza Dicendo Ah da quello che ho capito C'è un video di uno Di loro due Che gira su Telegram Ok Che è quello che stanno Dicendo nei commenti Io sono molto tranquillo A parlare di questa cosa Quello di cui siamo stati accusati Da questi bot Vabbè ma Cioè per me non è neanche una mina Cioè Vi mostro Cioè andiamo a vedere Uno dei profili Ad esempio questo qua Boburgeon Oppure questo Cioè sono tutti i profili Creati tipo L'altro giorno O tipo Qualche mese fa E non Cioè vorrei tanto scrivere Uno di questi Cioè Questo Cioè ma vi immaginate Donish Che mi viene a commentare Sotto un post Che gira un video Su Telegram Donish Che cazzo fai Donish Donish E poi ho visto questa storia Zindagi Sono andato a cercare su Google Ho trovato questo Don Boh La cosa si fa interessante Ma ne approfitto per parlare Di una cosa un po' più seria adesso Leggendo questi commenti Mi è venuta quasi Ansia per un attimo Perché stavo venendo tutti Dire la stessa Identica cosa E mi stavo quasi Autoconvincendo Io Cioè mi stavo cominciando A chiedere Ma è uscito un video Ma non ho mai fatto Una madagina Però allo stesso tempo Dentro la meta è stato tipo Cosa? E quindi posso capire che persone Che vedono queste cose Possono quasi crederci E ho paura di quello che può succedere Ma Capiamo Cioè non penso che una persona Che usa i social E che quindi Sa come funzionino Guarda quei commenti Li vede tutti così Cioè basta letteralmente Aprire un profilo Due Tre Capire che sono Falsi E Basta davvero sapere che ci sono Queste cose Cioè ci sono le persone Che comprano i bot A me una volta Li hanno comprati Per farmi fare tipo 400 follower Così Un po' di tempo fa E poi me li hanno tolti E sta cosa ti può far segnalare Da Instagram Le persone lo sanno Quindi boh niente Semplicemente un Neanche attacco hacker Sono perso Non so cosa sia Se qualcuno lo sa Datemi qualche spunto Quindi niente Io e Thomas abbiamo cominciato Questo nuovo progetto insieme Vi lascio il profilo qua E basta Lui però non è l'unico TikToker Che è stato preso di mira Dai bot Con tanto di minacce Infatti A finire nel mirino Delle accuse E degli insulti Assolutamente gratuiti E anche lei Elisa Esposito La nostra Prof di corsivo È stata letteralmente Bombardata Da tanti 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 Veramente tantissimi Commenti Che fanno veramente Schifo Fatemelo dire Ma ascoltiamo insieme Quello che è stato Il suo primo messaggio sfogo Pubblicato sui social Dopo aver ricevuto Questa valanga Di insulti Guardate Continuano a minacciarmi di morte A me e alla mia famiglia A insultarmi A stalkerarmi E a dirmi Che mi massacreranno Di botte Adesso vi spiego meglio Perdonatemi un po' Ma sono agitata Perché comunque Non è una cosa normale Quella che sta succedendo Ero tranquilla Nel letto Che mi stavo riposando Stavo scorrendo i commenti Sotto la mia ultima foto Sull'altro social Fino a che Non leggo Certe schifezze Metto qua Una piccola anteprima Che purtroppo Dovrò censurare Perché altrimenti TikTok mi banna Ma comunque Nelle storie Dell'altro social Oppure direttamente Sotto all'ultima foto Che ho pubblicato Sempre nell'altro social Potete andare a leggere Tutto quello Che mi continuano a scrivere Così legge Così leggete con i vostri occhi Lo schifo Che sto passando io E onestamente Non me lo merito Perché sono una bravissima persona Non ho mai alzato in vita mia Un dito a nessuno E subirmi certe minacce Amai alla mia famiglia Addirittura leggere Che mi vengono ad ammazzare Cioè Non lo reggo Non lo reggo Che poi molto probabilmente È un bot Ovvero Una persona Paga Centinaia e centinaia Di profili Fake Per farmi scrivere Queste cose E ho notato Che in realtà Non è successo solo a me Questo Ma anche ai Pantellas Al mio ragazzo Gentisosa A Fabrizio Valerio E non so chi altro Cioè Spiegatemi Ma che moda è Pagare un bot Per far insultare Per far minacciare Gli influencer Ma che cosa vi abbiamo fatto Ma raga Ma mettete la testa a posto Perché i primi Siete voi Che devono farsi Un esame di coscienza Non siamo noi Perciò Basta scrivere Queste cose Basta Augurare la morte Basta minacciare Basta mettere in mezzo La mia famiglia Addirittura mi scrivono Che vengono sotto casa mia Che Mi alzano le mani E non posso dire altro Perché appunto Altrimenti vengo bannata Ovviamente Io mi dissocio Da tutto ciò Sono contro la violenza Assolutamente Come ho detto prima Non ho mai alzato un dito A nessuno Raga Cioè ma Di cosa parliamo? Che poi leggere certe cose Fa anche male Cioè ve lo assicuro Non è bello Ovviamente Se capita anche Altri influencer Tiktoker Non lasciatevi prendere Dal panico Perché sono persone Che Cioè Non hanno niente di meglio Da fare nella loro vita Cioè vabbè Ovviamente Quando si va in giro Bisogna stare sempre attenti Ma non fatevi prendere Ma non fatevi prendere dal panico Assolutamente Ma andiamo a leggere Alcuni di quei commenti Aberranti Che sono stati pubblicati Sotto i post Di Elisa Esposito C'è chi le dice questo Appena ti vedo Sei finita Sei lo schifo Fatto in persona Tua mamma Merita di venire Su Appena ti vedo Finisci all'ospedale Se sei fortunata Fatti curare Malata mentale Sai solo Prendere per il culo I tuoi follower Sappiamo dove abiti Aspettati Visite a casa Non vedo l'ora Di dartele Pu Puntini puntini Se ti trovo in giro Ti conviene Scappare Appena ti vedo Finisci all'ospedale Se ci tieni alla tua pelle Non farti vedere in giro Appena ti vedo Ti faccio sputare Sangue Dalla bocca Sappiamo dove abiti Prepari a te Ad avere visite Che faccia da culo Fatti curare Malata mentale So dove abiti Dopo Ti vengo Sotto casa Brutta Pu Puntini puntini Se vedo Te o tua mamma In giro Finita all'ospedale Tu hai problemi Mentali Ritardata Ripigliati E giustamente Lei dice Basta E dice basta Anche pubblicando Un altro messaggio sfogo Nelle sue stories Dove dice questo Sono stata attaccata Da centinaia di profili fake Tantissimi commenti Con minacce di morte Persecuzioni Insulti Mettendo in mezzo Anche la mia famiglia Molto probabilmente È un bot Che sta attaccando Altri creator Come me Ovviamente Mi distorcio completamente Da quei commenti E se andranno avanti Provvederò per vie legali Anche io Direi Basta A queste schifezze Questi commenti Fanno male E ha assolutamente ragione Ragazzi Perché poi Ce ne sono veramente Tantissimi E lei dice Immaginate spendere I propri soldi Per pagare dei bot In cui scrivono Queste cose Tutto assurdo Perché anche secondo me Dietro ci sono persone Che pagano Per buttarti Delle shitstorm Nei commenti Dei social Per rovinarti La reputazione Per insomma Fare tutto quello Che poi loro Pensano di fare Ma la verità È ben altra Ma dettagli Un altro creator Anche lui famosissimo Su tiktok Ma anche su instagram Devo dire Fabio Bonzani Che fa sempre gli scherzi A sua mamma Ha condiviso Insomma Tantissimi commenti Che gli danno Dello stupido E tutte queste cose Che avete letto Anche sotto i miei commenti Commenti di tante altre persone Dice Se vedete questi commenti Sotto le foto Anche vostre Non preoccupatevi Sono fake E qualcuno Si diverte A mandare queste cose Ad essere stata attaccata E anche Rebecca Parziale Componente della Stardust Ha deciso di condividere Uno screen Di tutti questi commenti Che ha ricevuto E ha detto questo Ma esattamente Una persona Come arriva A comprare Dei bot Del genere Cosa ci trova Di divertente Nel vedere Questi commenti schifosi Non ho parole Perché le hanno detto Appena ti becco Farai la stessa fine Della tipa di Palermo Tua mamma Non avrebbe mai dovuto Partorirti Appena ti vedo Finisci all'ospedale Ti ha La famiglia Appena ti vedo Ti do tante di quelle botte Che nemmeno tua mamma Ti riconoscerà Tue problemi mentali Ritardata Ripigliati Appena ti vedo Finisci sotto terra Voi capite che Questo genere di commenti Oltretutto Tirano in mezzo La ragazza di Palermo Di quell'orrendo Stupore Di sette ragazzi Hanno davvero Dell'incredibile Cioè Questi bot Addirittura Prendono Fatti di cronaca Per dirti Quello che ti succederà È una Vergogna E fatemelo dire Questa cosa Deve finire Va fermata Vanno fermate queste persone Ci deve essere un modo Per farsi giustizia Anche perché Ragazzi Adesso qua Torno al mio discorso Ad un certo punto Una cosa che io ho notato È proprio questa Che Dietro questi bot C'è qualcuno Che te li manda In un momento preciso E fate bene attenzione Quando dico In un momento ben preciso Intendo dire che a me Entrambe le volte Che è successo È successo Di venerdì pomeriggio E voi direte Vabbè ma dove sta Lo scandalo Di questo venerdì pomeriggio Lo scandalo sta in questo Che qualora io volessi Andare a denunciare Alla polizia postale Visto che purtroppo Ancora online Non si può fare Perché il sito È da un mese Passa in aggiornamento E ancora io mi chiedo Come sia possibile Però insomma Questo è quanto Dovrei andare Personalmente Io abito vicino a Milano Però diciamo che Con i mezzi e tutto Ci metterei Oltre un'ora Ad arrivare E per questo motivo Ho detto Andrò più avanti Adesso io Sto per partire Voi starete vedendo Questo video Io sarò già al mare Eccetera eccetera Però queste cose Succedono di venerdì Vi dicevo Perché vi dico Tutto questo discorso Perché il venerdì La polizia postale Apre da lunedì A venerdì Solo la mattina Succede che Se vuoi andare Alla polizia postale Ed è venerdì Devi ovviamente Aspettare il lunedì Mattina Quindi passa Tutto il venerdì sera Tutto il sabato Tutto la domenica E tu dovresti tenere Quei messaggi Pubblici Dove tutti quanti Leggono e dicono Ma cosa fa questa persona Ovviamente tu li cancelli subito Non è vero Vanno cancellati Vanno segnalati Questi profili Benissimo Ora Se io volessi ad esempio Andare a denunciare Oggi è sabato Mentre registro questo video Dovrei Dovrei aspettare appunto Il venerdì Che è appena passato Il sabato La domenica E poi lunedì Peccato però Che io lunedì Deba partire anche Quindi oltre a questi Tre giorni che sono passati Devo anche partire Cioè io Non posso neanche andare Fisicamente Lì a Milano Dalla polizia postale Perché quando apre La polizia postale Io devo essere già In aeroporto Per partire Quindi vabbè Ho deciso che comunque Andrò alla polizia postale Andrò appena torno Che appunto Starò via una settimana Al mare Tornerò Andrò subito a denunciare Perché adesso Veramente basta Cioè non ne posso più Non voglio che succeda di nuovo E voglio soprattutto Capire anche come potermi Muovere Di fronte a questo genere Di insulti Che mi arrivano Perché comunque Sono diffamatori Adesso io voglio Leggervene qualcuno Giusto per farvi capire Quanto siano anche Dettagliati E credibili Perché se tu non mi conosci Vedi questo commento Dici oh mio dio Ma veramente Perché i commenti Dicono questo Bravo Picchia le ragazze È l'unica cosa Che i vigliacchi Come te Sanno fare Ma ce n'era un altro Che adesso Spero di trovarlo Che diceva Dopo quello che è successo A Palermo C'è ancora gente come te Che st***a le ragazze Vergognati Sta circolando Un video di questo C***o che picchia Una ragazza Ma poi c'era qualcuno Che parlava di Telegram Eccolo qui Questo psicopatico Violito Che st***a le ragazze Un video su Telegram Lo dimostra Attenzione Gira un video Su Telegram Di questo Psyco Che picchia Quelle ragazze Questo qua Non è un tipo A posto E ce ne sono tantissimi Di commenti Di questo tipo Io ho fatto di screen A tutti quanti Ok Non per leggerveli Ma perché serviranno Evidentemente Per la polizia postale Tutto quello che ho potuto Fare Denunciare Ed ovviamente Vi terrò E voglio E voglio che appunto Smetta Smettano di mandarmi Questi bot Che si possa fare qualcosa Quindi Incrociate le dita Anche per me Quando andrò Alla polizia postale Per capire effettivamente Quello che può succedere Poi ragazzi So che i problemi Della vita Sono sicuramente altri E so anche benissimo Che le cose Di cui vengo Accusato Sono assolutamente false Cioè ma Vedete me Mettere le mani Adosso di una ragazza Addirittura Sto parla Proprio Non mi conoscete Mi sa perché abbiamo Anche gusti sessuali Diversi Quindi con una ragazza Io non potrei fare altro Che uscirci Piliare una pizza Parlare Essere amici Punto e basta Comunque insomma Capisco che Che è tutto così È tutto È tutto assurdo E viviamo forse In una Non lo so In una bolla di assurdità E ancora non lo sappiamo Però insomma Questo è quanto Il video Finisce qui Spero che vi sia piaciuto Tra virgolette Per tutte queste tematiche Insomma Che vi ho raccontato E insomma Fatemi sapere Quello che ne pensate E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao Ciao